Che ragazzi ci siamo? Ho detto che ragazzi ci siamo? Mi sto registrando Oh, partiamo con un ascensore, bene Sì Facciamo a partire Che? Lo afferro io Acabò, acabò, acabò È un peggio enorme questo Credo di sì Ci provo Ci si prova Nella vita No, non ci sia risulto Ok, ci ho fatta Io guardo se non ne arriva una Lassù Cavolo, cavolo Eh Ahah Ecco un altro Dobbiamo attivarlo Fatto Che cacchio è? È uno stalker Maledetto Passate No Ovviamente Adesso possiamo andare Ok Oui 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 Ok Vediamo dove conduce E mi dice che quello Non riuscivo a prenderlo Già Ci è mancato un pelo Pensavo che mi facessi uno scherzo Grazie che mi avete aperto Comunque ragazzi C'ho di nuovo il problema Che non mi si apre il menu Dove che devo registrare C'è quello Lo sapete, no? Quel menu Dove inizi i video Non mi si E c'è di nuovo quel problema Che non mi si apre Dal gioco Quindi Non posso fare di nuovo I finali dei video A sorpresa Ok Intervento diretto Intervento diretto Siamo nel secondo capitolo Ragazzi Dopo Ore Di sofferenze Voi volete Oddio Oddio Che è successo Oddio Ok Questo è bagato Vabbè Ma io non so E tu vuoi che io entri là dentro? Io non ci sono Se guardi la tua telecamera Non vedrai niente Non ci sono io Non ci sono Devo nascondermi Devo nascondermi Non mi vedrà così Merda Perché non fai sempre io Le cose Va bene Perché non c'è Adesso Non vedi assolutamente Niente Non vedi Se guardi la tua telecamera Non vedi assolutamente Niente Non vedi assolutamente Merda E perché non mi aiuti? No No Aiuto Sono nei guai Sono davvero nei guai Ragazzi Se esplodi Il nucleo Per me Sarà la fine Ok Dovremmo attivare Sti pulsanti Già Sto pulsanti Ah Mette Quelle Nell'angolo Ok Andiamo Ciao Ecco Almeno Un'olto Grazie Ciao Vabbè Dovrei mettere Una palla Che Che desintegra Là dentro Ti provo A vedere Che succede Voglio vedere Che succede Se metto Questa palla Nell' Questo Che succede Questa Sfa roba C'è una cosa Che aiuta Però Praticamente Queste cose Aiuteranno Il nucleo A A chiudersi Di nuovo A chiudersi E così Avremo un po' Più di tempo Per scappare Della città Tra l'altro Questo episodio Qua L'episodio 1 Di Uplife Che è questo qua Che sto tocando Non è tanto lungo Perché ho visto Che Perché ho visto Che dura Fino al capitolo 5 Quindi non credo Che c'era tanto lungo Spero Sperò Morite Maledetti Morite Questo Com'è rimasto Ok Non si vai Queste cose Mi sa Vai No 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 Aspetta 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 Non si va Non è così Semplice Però E' quella parte Devo dire Ecco Che c'è? Ecco Nessuno potrà passare Oh cacchio Ok ragazzi Qua devo fare Una cosa pericolosissima Ok Menomale Ce l'ho fatta Ma non mi devo distrarre Devo andare veloce Veloce Oh Oh Ecco qua Secondo In teoria Il terzo Dovrebbe essere L'ultimo In teoria Da Oh Oh Sì Andiamo Per il terzo Esterno Per il terzo Esterno Sì Magari 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 Andiamo Per il terzo Oh, quanti, troppi, troppi che ne sono in questo posto, di merda, saltiamo su questo caso, oh ciao, Alex, eh, 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 ah, getto, getto, ah, getto, ah, getto, ah, ah, ah dietro sono nato? no non c'è non nato c'è qualcuno? no non c'è nessuno cosa ho fatto? vabbè non lo so Oh ecco Mi spiace il ferito qua Quanto me ne spiace Guardate come è ridotto Eeeh maledetto Mi faccio fare ancora più di tortura Ah ah mio dio Quante volte Però me ne scelgo una qua Grazie Abbiamo vinto Che cosa ci dici ora Nucleo che abbiamo Credo dieci minuti in più per Per Che è successo Ma Che è successo Deve essere successo qualcosa E va bene Non ci voleva E devo prendere tre Va bene Eh E poi l'ultima facciamo così Perché questo sale E ci dimentica Quindi Oh quanto sono polvo Adesso dovrebbe funzionare Vero? Spero Sì Ha funzionato Vai Sì No No Maledetti Vabbè Vabbè Dai non fa niente E' tornata normale A pistola Ciao Alex Gordon Ce l'hai fatta Sì Il sistema di contenimento Di nuovo al suo posto Non durerà di tempo Ma abbiamo guadagnato un po' di tempo Sì infatti Vedi che è chiuso Ma davvero Ma davvero Ok ok Ne ho fatto una copia Davvero E perché non potrebbero essere volatizie E cos'è Ma dov'è Mosman? In che posto? Perché Che c'è Scappa Mosman Scappa Che cacchio è? Cos'era quel coso? Oh 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 cacchio Ci hanno sentito Di qua Arrivo Arrivo Lascia l'ascensore Che si chiude la porta ora credo Spero Avete fatto in ritardo Avete fatto troppo troppo tardi Quanto mi dispiace Lei si è stato bellissimo Infatti è stato bellissimo Quindi è durato quel potere Accidenti Dove rifare Half-Life Per avere giù quel potere Di latino Come un matto E non lo voglio fare E non lo voglio fare perché E' troppo ridotto il gioco Rido delle mie caro di battute Che fanno merda Pesto Chiudi Chiudi questa porta Ok Quinto livelli Quinto livelli Ce n'è Ma non ho però Noi Minotanti Questo questo Mettiamo 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 Era No Non venite Se qualcuno arriva Quelli sono tutti Ma Sì Chi aveku Compagnia? Via libera. Via libera vuol dire. Però ragazzi ci scopriremo dove ci porterà il treno nel prossimo episodio. Spero che vi sia piaciuto, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!